Dove la natura sia bellezza che brutalità, scienziati da tutto il mondo rischiano la propria vita per salvare quella della Terra. Tre installatori Ariston, scelti fra i migliori, hanno affrontato le peggiori condizioni. Hanno sfidato le forze della natura con un obiettivo unico, aiutare la ricerca scientifica ad andare avanti con il comfort della migliore caldaia Ariston di sempre. Questa è di Ariston Comfort Challenge. Perché nessuna sfida è impossibile se può rendere il mondo un posto più confortevole.